Salve amici del Centro Maggi Italiano, tempo più stabile in Italia in vista del weekend, eccetto qualche isolata pioggia. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per sabato 7 dicembre. Al mattino locali addensamenti specie sul versante adriatico e su quello tirrenico centro-meridionale, dove su quest'ultimo non si escludono locali piogge, sole prevalente altrove. Fenomeni in esaurimento al pomeriggio, salvo qualche residuo acquazzone sul Lazio, tempo stabile sulle altre regioni, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata è notata a tempo asciutto da nord a sud, con solo qualche nube sparsa alternata ad ampie schiarite. Le temperature rimarranno stabili o tenderanno ad aumentare, salvo una lieve flessione sia delle minime che delle massime al sud Italia. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.